Benvenuti, sono Madeline Lewis e sono qui per mostrarvi alcuni esercizi per lo stretching mattutino. Uno stretching tonificante è un ottimo modo per cominciare bene la giornata. Questi esercizi mattutini, se eseguiti con costanza, vi daranno la scioltezza, la concentrazione e l'energia necessarie per affrontare tutta la giornata. E ora vi mostrerò gli esercizi per lo stretching serale. Fare stretching a fine giornata può essere molto rilassante. È una pratica che richiede tempo, ci permette quindi di concentrarci su noi stessi, sulle esigenze del nostro fisico e di ritagliare un po' di tempo per noi stessi, rallentando i nostri ritmi. Gli esercizi serali vi aiuteranno a concludere la giornata in modo rilassante, pronti per un sonno ristoratore.